Ciao a tutti amici di Youtube, io sono sempre il vostro WD e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Minecraft Come avrete già letto dal titolo ragazzi, ho deciso di fare un attimo un po' di ordine Ho deciso per un breve periodo di tempo di appendere un attimo la bacchetta Che cosa vuol dire? Vuol dire che sapete tutti che insomma siamo in estate Si va tutti al mare, ci si diverte, insomma ci riserviamo l'inverno per stare davanti al computer o al telefono dispositivo che sia A guardare video di Minecraft e penso condividete tutti questo ragionamento Ragion per cui ho pensato, per adesso magari stoppa un attimo questa serie Mettiamo un attimo lo stop, non vuol dire che la chiudo assolutamente, la portiamo avanti tranquillamente Però per adesso, per questo ultimo periodo, magari la stoppo e la sostituisco con qualcosa di simile Però un po' più leggero Cosa pensavo di fare? Pensavo di fare qualcosa di simile, qualcosa che non faccia vedere il cambiamento radicale Quindi ho pensato, siete d'accordo se faccio la stessa serie, cioè nel senso faccio una serie simile Però solamente sulla towncraft, cioè dedicare una serie come tutorial soltanto sulla towncraft ragazzi Cioè nel senso inizio magari un mondo, mi faccio un attimo una casetta, cerco di fare per esempio le prime cose da mangiare Usiamo questa resource pack perché ci sta veramente molto bene E quando sono pronto, parto con la serie, iniziando subito con le cose della towncraft Insomma diciamo non facendovi vedere tutto il solito procedimento Raccogli la legna, costruisci la casa, raccogli risorse Partiamo subito con la towncraft E ci facciamo proprio una maratona di episodi Dall'ABC della towncraft Fino ai più sconsiderati add-on impossibili e immaginabili E ragazzi ci divertiremo veramente un mondo Quindi ditemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate Ripeto, non chiudo la serie assolutamente Abbiamo ancora tantissime cose da fare, tantissime mod da vedere Il problema è solamente il caldo E ovviamente tutti che si va al mare in vacanza e non ci si mette davanti al pc Quindi per questo episodio io direi che è tutto Per questo ultimo per adesso episodio È tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Che arriverà a brevissimo in questi prossimi giorni E da Doppia D è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao